Ciao a tutti! Quello di oggi è l'ultimo video di questa serie, l'ultimo video di quest'anno scolastico. In questi mesi siamo riusciti a rimanere vicini e fare e proporci un sacco di cose, attività, musica, chiacchiere, da lontano ma in qualche modo sempre vicini. E vorrei ringraziare in questo i bambini con cui ho lavorato a distanza, quindi Stefano, Cristian, Jordan e Alessio. In vari modi, con loro e con le loro famiglie, siamo riusciti ad andare avanti con il nostro lavoro, inventare anche cose nuove, modi diversi di stare insieme e questo è stato molto bello e molto importante per me e spero anche per voi, quindi grazie. Ho scelto quindi di salutarvi con una canzone e ringrazio Stefano per il suggerimento. Il brano, infatti, è Nella vecchia fattoria, che suonerò in versione semplificata accompagnandomi con l'ukulele e suonando i temi principali con melodica e flauto dolce. Potrete suonare con me leggendo le note in sovraimpressione, come al solito. Vi ringrazio ancora tantissimo bambini, adulti e famiglie, anche colleghi e insegnanti per il lavoro e il percorso che abbiamo fatto insieme e spero di rivedervi molto presto. Ciao! 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 Grazie a tutti